conferenza stampa di Iuric oggi prepartita e de-presentazione un imbarazzo totale lasciatemelo dire ragazzi un imbarazzo totale una conferenza durata 12 10 12 minuti in totale con una domanda a testa dei giornalisti risposta secca con nessun dirigente della roma a fianco nessuno tranne il capo della comunicazione non è venuto nessun dirigente a spiegare la scelta dell'addio di daniele de rocci e dell'arrivo di Iuric incoraggiando il mister nuovo e dandogli fiducia lasciato solo anche lui con i giornalisti che fanno delle domande un po scontate e qualcuna che non hanno fatto tipo della contestazione dei domani io io saprei perché non si parla di questa contestazione dell'ambiente e si è parlato solo di dibala di quello e di quell'altro secondo me c'è stato un qualcosa nel senso un limite là su certe domande il mister l'ho visto tranquillo l'ho visto si è preso un foglio con una penna si è segnato tutti i nomi dei giornalisti no perché giusto così no la faccia è il nome del giornalista così piano piano poi ti impari a conoscerli ha parlato di dibala ha parlato bene perciò dalle sue parole secondo me domani gioca dalle sue parole domani gioca sulla difesa secondo me Ermoso e Umels non giocano perché ancora non sono pronti e molto probabilmente da quello che ho percepito potrebbe anche giocare Angeligno ancora a braccetto da quello che ho percepito d'armista potrebbe ancora giocare Angeligno perché ancora non sono pronti Umels Hermoso ha detto poi nelle prossime partite vediamo ha fatto capire e questo è perché quando vi dicevo no voi vedete il nome sulle maglie avevo preso Umels Hermoso e poi però devi andare a vedere Umels Hermoso capito anche questa cosa qua no arriva dopo la questione di Danzo perché fai l'acquista all'ultimo quando il difensore centrale non so da quant'è che te mancava perché non riscatti Llorente non riscatti Hausen venni con bulla sacco di tempo fa te ritrovi all'ultimo fa Danzo e poi Danzo a sto problema e te trovi a fare questi due difensori centrali che stavano tutte e due corcalippo corgelato si salta alleni da solo ma ragazzi poi te puoi chiamare Umels Hermoso come te pare ma se t'alleni da solo non c'è ritmo non c'è intensità devi riprendere in una certa maniera e adesso vedrete li abbiamo presi all'inizio settembre e qui si andrà minimo a ottobre già si perderà un mese poi ci saranno le pause dei nazionali forse i veri Hermoso e Umels li ritroveremo dopo la sosta dei nazionali a ottobre vuole aggressività lo sapevo lui fa dell'aggressività tutto il pressing alto fa pressing alto lui non gli piace non gli piace fare il possesso palla soprattutto con uscite dal basso ma gli piace il recupero alto del pallone l'aggressività e poi ve l'ho detto ragazzi bene o male è bene o male è quello che fa l'Atalanta è quello che fa l'Atalanta lui c'ha i principi di Gasperini è stato il suo vice è stato il suo giocatore perciò i principi sono quelli l'ha portato in pod dappertutto adesso bisogna vedere se la squadra gli va dietro se la squadra gli va dietro può essere che l'allenatore possa anche comunque trovare il bandolo della matassa domani abbiamo una partita difficile contro una squadra fisica una squadra che gioca a tre e lo sa fare bene che è una squadra che è allenata in un certo modo una squadra preparata una squadra che è in fiducia ci sarà uno stadio che per 30 minuti sarà vuoto e per il resto sarà in contestazione ciò sarà molto difficile per i giocatori però ragazzi questo l'hanno voluto i proprietari della Roma questo l'hanno voluto i dirigenti della Roma e questo ve meritate perciò in tutte queste difficoltà io do un abbraccio forte a Mister Juric che sicuramente vuole venire qui e lavorare in un certo modo gli do un abbraccio e la speranza che la società visto anche i rapporti con il suo procuratore gli dia una mano e a tal proposito sembra imminente il recupero di Zalewski che sarà reintegrato in Rosa sarà reintegrato in Rosa Zalewski che è molto importante perché a due ha detto che gli piace anche però con Mourinho faceva il quinto lui terzino sinistra quattro non lo poteva fare Zalewski è sempre stato adattato di brutto quinto lo ha fatto lo può fare anche se per me è più un esterno da 4-2-3-1 lui no? un terzo a sinistra dietro alla punta però il quinto lo può fare no? con certe regole vediamo un attimino Pisilli sulle 30 milioni di euro secondo me si gioca di bala io faccio fatica a pensare che possa giocare anche anche sulle perciò sì alla Polonia fa il quinto fa il quinto Zalewski ma servono proprio ragazzi servono i giocatori perciò Zalewski va recuperato in tutti i modi perché servono i giocatori per giocare a tre serve un altro quinto perciò Zalewski anche perché Zalewski è infortunato e non è una cosa neanche breve e forse serve anche un altro difensore centrale a meno che non si voglia puntare come quinto sul difensore della primavera però magari arrivano a gennaio a gennaio ragazzi secondo me a gennaio partiranno altri 3-4 giocatori e ne arriveranno altri 3-4 ve l'ho detto comunque forza forza Juric forza Roma purtroppo mi dispiace mister Ivan ma domani non è per te è per questa società per i comportamenti di questa società domani ci sarà una contestazione che poi alla fine ci rimetterai anche te al mister ci rimetterai anche te di questa contestazione non c'entri niente però devi capire che tante cose del calcio vanno oltre e ripeto il problema e chiudo qua di Daniele io non ci voglio più ritornare con Daniele il problema non è stato l'esonero il problema è stato come è stato fatto c'è stata un'ingiustizia bella e buona e quando vi è servito da fare il fulmine di Murigno dove vi siete caccati sotto a esonerarlo avete preso lui in questo momento lo mandate via dopo che stava a mettere i cisnesini dentro al campo dopo che comunque tutta l'estate si era avvelenato sul mercato aveva chiamati i giocatori li aveva fatti venire li aveva fatti e comunque voleva ripartire c'erano delle partite che potevano essere veramente magari le partite della ripartenza della Roma quello cacciate proprio lì non facendogli fare neanche queste partite e quello mi sembra che è evidente che avevate paura magari che vinceva qualche partita e poi non lo potevate cacciare è stato cacciato via per i rapporti è stato cacciato via per i rapporti se poi ci mettete l'XG l'XG come si chiamano è ancora peggio secondo me è ancora peggio fate prima potevate dirlo prima anche a lui eh Presidenti Daniele e ti abbiamo cacciato via perché poi risponde male così comunque ti sei messa a scontro con l'Inasoluku lei porta i soldi noi a te ti le diamo i soldi perciò mi dispiace Daniele forza a l'Inasoluku ti devo mandare via forse era più rispettoso era più da uomini che fagli vedere l'XG e fagli vedere le undici partite precedenti forse era più da uomini fagli vedere una cosa del genere era più da uomini ma uomini non sono perché sono venuti tagliato testa e hanno preso l'aereo e sono ritornati in Texas monologo terminato allora